Durante l'evento per il lancio dei suoi nuovi prodotti qui a Barcellona, iSense ha messo in mostra anche la sua nuova line-up in ambito smartphone. Stiamo parlando della rinnovata serie Faith, composta da terminali tutti basati sul sistema operativo Android Nougat che si vanno a posizionare nella fascia sotto i 200€. Si parte con iSense F10 a 119€, un smartphone quad-core con display da 5 pollici HD, equipaggiato con 8GB di memoria di storage, 1GB di RAM e con una fotocamera frontale e posteriore da 8MP. iSense F22 è invece un terminale con display di maggiore dimensione, ha infatti un pannello da 5,5 pollici, sempre HD. Si basa sul processore quad-core, ha una fotocamera posteriore da 13MP e una frontale da 5MP, una batteria da 2380 mAh, 8GB per lo storage, 1GB di RAM. Il suo fratello maggiore è iSense F23 che sullo stesso display HD da 5,5 pollici costruisce una proposta da 179€ al pubblico con sensori di impronte digitali, processore quad-core, 16GB di ROM, 2GB di RAM, batteria da ben 3000mAh, fotocamera posteriore da 13MP e anteriore da 8MP. è un terminale octa-core invece iSense F31 che ha un display più piccolo da 5 pollici, sempre con risoluzione HD. In questo caso nella scheda tecnica troviamo una batteria da 2500 mAh, un corpo costruito in metallo, una fotocamera posteriore da 13MP, una anteriore da 5MP, una ROM di 16GB e memoria RAM da 2GB. Il cartellino del prezzo in questo caso riporta la cifra di 169€.